Assessore Di Paolo, siamo all'interno dell'ufficio turistico di Rieti, riaperto da qualche giorno, un motivo bello per quanto riguarda l'aspetto proprio promozionale del territorio, ma sicuramente è una prima tappa di altri progetti che verranno portati avanti dal tuo Assessorato. Sì, buonasera a tutti. È una prima tappa, era una tappa che aveva una priorità assoluta perché se ne sentiva la mancanza e ci si accorge ancora di più adesso quanto se ne sentisse la mancanza perché credo possiate essere testimoni dell'affluenza e della frequentazione che c'è stata in questi giorni. In occasione dei campionati europei, quindi un'occasione nella quale abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo visite da tutta Europa, mi sembrava proprio assolutamente opportuno rimettere in modo questo punto di informazione che abbiamo chiamato Informazioni Turistiche e Promozione del Territorio per dargli proprio il senso più completo della funzione. La nota positiva è che molta gente ha chiesto notizie scritte e documentate del territorio e della città. Questo significa che c'è voglia di conoscerci? C'è voglia di conoscerci, c'è. Io avevo anticipato che ascoltando un po' in Italia e anche fuori dall'Italia le tendenze del turismo di questa estate che sono dettate molto dalla situazione economica ma anche da una consapevolezza culturale diversa da parte dei turisti, dei viaggiatori, le città di provincia come la nostra avrebbero probabilmente potuto godere di un momento speciale durante questa estate del 2013. Quindi abbiamo anche per questo ci siamo affrettati a chiudere questa operazione della brochure turistica. Abbiamo chiesto anche ai comuni vicini il materiale promozionale perché siamo ovviamente disponibili e contenti di dare qui anche informazioni dei nostri comuni limitrofi ma anche non limitrofi insomma comunque della provincia di Rieti. Un'nota positiva, in questi giorni abbiamo visto molta gente ovviamente per quanto riguarda i campionati europei, i Juniors, chiedere ancora più notizie su quello che è il cammino di Francesco. Hai novità? Hai nuovi progetti su questo? Ci sono nuove iniziative in merito a questo tuo progetto? Sì, che non voglio più chiamare mio progetto. Progetto della città. Ecco esattamente perché si corre il rischio di pagare lo scotto dell'autoreferenza. Però è un dato di fatto quindi non è che uno può... è così e quindi... Sicuramente. Comunque sì, è palese e visibile che c'è quest'anno un'affluenza aumentata ma aumentata di moltissimo sul cammino. È aumentata la visibilità grazie a questo evento imponderabile che è stata l'elezione di un Papa che ha scelto finalmente il nome Francesco e quindi è chiaro che il progetto ne risente in modo assolutamente positivo. Noi stiamo lavorando molto, devo dire, molto allacremente a questo fine 2013-2014 per l'ottocentesimo anniversario dell'arrivo di San Francesco a Santiago de Compostela per cui rafforzare i legami con il cammino più famoso in assoluto del mondo. Abbiamo pronto un protocollo di intesa con Tour Galizia che è l'operatore, diciamo che con Giacobbeo gestisce il cammino di Santiago negli ultimi 100 chilometri. Abbiamo due presenze già previste durante l'anno delle celebrazioni per cui credo che sarà un momento importante. Battuta finale, un piccolo resoconto di questi giorni dedicati allo sport europeo in città. La città ha risposto bene, poteva rispondere meglio oppure cosa si poteva fare di più che non si è fatto o si è fatto tutto e quindi è andato tutto bene? Non si può mai dire che si è fatto tutto perché insomma il fatto tutto magari è un'utopia ed è un'utopia che non sarebbe forse neanche piacevole raggiungere perché continua sempre comunque lo stimolo e l'impulso a fare di più. Si poteva fare di più sicuramente, però direi che considerata la portata dell'evento che è assolutamente straordinaria per Riedi e per una città di queste dimensioni, se devo trarre un bilancio è assolutamente positivo. Assolutamente positivo. Vedo anche le associazioni di categoria estremamente coinvolte, vedo tanta gente la sera al villaggio del Leoni Square. Forse mi sarebbe piaciuto vedere più gente allo stadio ma intanto contiamo domani sarà sicuramente il pianone anche perché c'è Roberta Bruni ma insomma è anche domenica e sono sicuro che domani la città risponderà ancora di più dal punto di vista sportivo. Grazie Sessone, bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, grazie.